All'appello a vaccinarsi del direttore generale di ATS Pavia Marazzi si aggiunge anche quello dei medici di medicina generale del territorio. Da Pavia Voghera i dottori che sono a più stretto contatto con le famiglie ribadiscono l'importanza della vaccinazione contro il Covid-19, soprattutto in vista dell'autunno. Le persone dovrebbero capire che vaccinarsi oggi dà alcune certezze. La certezza principale è quella di non contrarre la malattia in maniera seria, per cui la vaccinazione non esclude dalla possibilità di essere contagiati, per cui bisogna comunque mantenere sempre le misure di sicurezza, mascherine e distanziamenti in primo luogo, però dà la quasi certezza di evitare il ricovero e comunque di contrarre una malattia in forma molto lieve. Questo appello vale soprattutto per le persone che hanno delle comorbidità e che quindi in assenza di vaccinazione sono esposti a seri pericoli per la propria sopravvivenza, per la propria vita. Nelle scorse ore, tra l'altro, l'agenzia del farmaco statunitense ha autorizzato in via definitiva l'uso del vaccino Pfizer, un passaggio che potrebbe significare una svolta nella campagna vaccinale in tutto il mondo. A maggior ragione per il fatto che i vaccini si stanno dimostrando ad essere sempre più sicuri. È notizia di ieri che il vaccino Pfizer non è più un vaccino sperimentale, ma è ufficialmente riconosciuto, sicuro, da parte dell'FDA americana. Il che implica che si può tranquillamente spingere sulle vaccinazioni con vaccini che danno la massima garanzia di sicurezza. Questo per rassicurare gli indecisi, per rassicurare i perplessi, i pigri, che sono quelle persone che un pochino aspettano di vedere che succede. Prima ci si vaccina, più persone riusciremo a vaccinare, prima potremo pensare a un turno chiaramente più tranquillo. Per cui l'appello che faccio è a tutti i cittadini che non si sono vaccinati. Le remore e le preoccupazioni relative al vaccino sono ormai residuali, perché tutti i dati ci confermano che danno la massima efficacia e soprattutto un minimo rischio. Non ci sono ragioni per non vaccinarsi.